La più importante complicanza della malattia diabetica a livello retinico nella sostanza consiste in un accumulo di acqua all'interno della retina centrale, cioè della macula, che determina un'alterazione importante della funzione visiva. In particolare ciò che viene compromesso è tutto quel complesso di attività che noi svolgiamo osservando ciò che guardiamo, cioè utilizzando la parte più centrale della retina. Il paziente ha difficoltà a leggere, a scrivere, a guidare la macchina, a fare tante attività nelle quali si utilizza la parte più centrale della retina. Questo tipo di complicanza purtroppo ha delle caratteristiche poi che se il danno è andato fino agli stadi più avanzati ha delle caratteristiche di irreversibilità, è difficile tornare indietro. Il nostro sforzo, lo sforzo di tutti, diabetologi, medici di famiglia, noi oculisti, ma soprattutto i pazienti, deve essere rivolto a fare tutte quelle cose che possono prevenire la progressione del danno, evitare il raggiungimento degli stadi più avanzati. E a questo scopo è molto importante che il paziente abbia un buon controllo della malattia diabetica, un buon controllo dell'eventuale ipertensione arteriosa coesistente, un buon controllo della dislipidemia, che sono tutti fattori di rischio ufficialmente considerati associati allo sviluppo dell'etema maculare diabetico. In Italia circa il 5% della popolazione è affetto da diabete mellito e la percentuale di casi di pazienti diabetici con complicanze come l'edema maculare è molto elevata. Si calcola che circa un milione di persone in Italia abbia qualche forma di edema maculare diabetico, che significa dei numeri assolutamente impressionanti. L'anno scorso è stato pubblicato sull'ANSET un lavoro epidemiologico, il più grande lavoro epidemiologico mai condotto in medicina, in cui si è dimostrato che la malattia diabetica sta letteralmente esplodendo e sta producendo un trend di aumento della frequenza talmente impressionante da far scrivere agli autori che continuando di questo passo il sistema sanitario salenterà in tanti paesi del mondo a causa del fatto che non riusciremo a star dietro alla gestione delle complicanze oculari croniche della malattia diabetica. Grazie a tutti!